Radio Radicale, siamo in collegamento con la deputata del Partito Democratico Enza Bruno Bossio per parlare con lei dei referendum sulla giustizia che sono stati depositati ieri in Cassazione, promossi dalla Lega e dal Partito Radicale. All'interno del Partito Democratico si è sviluppato un dibattito molto interessante sul quale è intervenuta anche lei. Allora innanzitutto le volevo chiedere che cosa pensa di questi referendum e soprattutto del fatto che il Partito Democratico sta dimostrando una certa chiusura. Abbiamo visto le dichiarazioni di Letta nei giorni scorsi che sono state un po' contraddette da quelle di Bettini che ieri in un'intervista al Foglio ha espresso una linea aperturista. Io sono intervenuta su questa questione anche prima dell'articolo di Bettini, il giorno prima sul Corriere della Sera ero stata contattata su questa questione e ho espresso quello che penso effettivamente. Cioè prima di tutto il metodo, non si può dire siccome c'è la discussione in Parlamento non va bene porre la questione del referendum, ma perché i referendum sono uno strumento di supporto sostanzialmente anche e di iniziativa popolare rispetto a quella che è l'attività parlamentare sostanzialmente delegata. Non sono alternative, sono sempre state storicamente un momento di crescita anche democratica l'utilizzo dei referendum. E poi di merito, i quesiti sono assolutamente condivisibili e dovrebbero essere praticamente qualcosa che sta nel DNA della sinistra. Io non capisco come sta nel DNA di Salvini che evidentemente ha scoperto il garantismo dopo aver pagato sulla sua pelle delle iniziative giudiziarie. Però il tema dello Stato di diritto è un tema soprattutto della sinistra e a partire dal primo quesito che è quello della responsabilità dei magistrati su cui tra l'altro c'era stato un referendum che era stato sempre promosso dai radicali su cui si era espresso positivamente la maggioranza del popolo italiano. E poi guarda caso in Parlamento è andata nella direzione completamente diversa da quella che era stato l'orientamento popolare, tant'è che il quesito di oggi propone di introdurre il fatto che la responsabilità civile sia dei magistrati, non dello Stato che sostanzialmente paga per conto dei magistrati. Così come sul tema della separazione delle carriere che poi naturalmente produrrebbe anche l'iniziativa di due CSM è un tema fondamentale. In questo momento noi assistiamo anche a trasmissioni televisive dove sostanzialmente il diritto della difesa non esiste più, esiste solo le argomentazioni dell'accusa. Ma la difesa viene utilizzata appunto anche a livello mediatico scompare, oltre che c'è il rischio che scompaia, non dico a livello processuale, ma nel momento in cui c'è il tema sostanzialmente del rinvio a giudizio. E ancora di più sulla custodia cautelare, abbiamo le carceri piene sostanzialmente di detenuti in attesa di giudizio rispetto ai quali spesso poi si arriverà a una sentenza di assoluzione o in primo o in secondo grado. Per non parlare della Severino che è sempre stata una legge secondo me assolutamente incostituzionale perché non puoi sostanzialmente interdire dai pubblici uffici o far decadere dopo il primo grado di giudizio. C'è così le altre due quesiti sostanzialmente sulle modalità sia di elezione al CSM che sul ruolo che possono svolgere di diritto di voto sia degli avvocati e dei professori universitari. Consideriamo che in questo momento, lo ha denunciato il collega Enrico Costa e io lo condivido, abbiamo per esempio un ministero della giustizia completamente occupato sostanzialmente dalla magistratura. Ci sono oltre 100 magistrati fuori ruolo che fanno le leggi e decidono sostanzialmente nei fatti per conto del potere legislativo dove deve andare la riforma della giustizia. Quindi un riequilibrio di poteri anche attraverso l'iniziativa popolare per me va benissimo. Se poi questa cosa la sposa Salvini vuol dire che Salvini in certi casi magari occupa uno spazio come in questo caso che dovrebbe essere invece uno spazio della sinistra. Non è colpa di Salvini, è colpa nostra. Senta, immagino che l'abbia letta ieri l'intervista di Bettini. Sì, lui fa un ragionamento, devo dire che Bettini lo fa un po' tardivo, perché tra l'altro nella sua intervista cita tra questi 20 anni di velenie, di giustizialismo, anche Oliverio. Ma lui quando la direzione nazionale del partito con Zingaretti segretari ha deciso il commissariamento della federazione di Cosenza sulla base del fatto che c'era un segretario di federazione che diceva sostanzialmente che non si poteva considerare Oliverio già condannato. Tant'è che poi Oliverio, ma anch'io insieme ad Oliverio, siamo stati assolti e prosciolti. Beh, Bettini era in quella direzione che ha deciso il commissariamento della federazione. Quindi anche qui mi fa piacere che ci sia un ripensamento. Vediamo allora che i ripensamenti non sono solo di Di Maio, che chiede scusa a Oggetti, o di Salvini, che appoggia questi referendum, ma per fortuna sono anche di Bettini. Secondo lei Di Maio, visto che l'ha citato, si è convertito al garantismo, diciamo perché forse l'ha fatto per una questione tattica legata ad altre vicende? Guardi, secondo me Di Maio in questo momento è l'animale politico più interessante che c'è sulla scena politica italiana. Lo dico non in maniera offensiva, ma quasi ammirata. Potremmo definirlo quasi il nuovo Andreotti. Nel senso che usa il Realpolitik in maniera molto anche intelligente, tutto sommato, considerando anche... Più di Conte secondo lei? Secondo me sì, perché a differenza di Conte che è arrivato adesso a fare politica, insomma l'ha fatta attraverso sostanzialmente queste esperienze, la presidenza del Consiglio che devo dire non è che capita tutti i giorni di poter fare. Di Maio è cresciuto attraverso l'esperienza parlamentare di vicepresidente della Camera, di vari ministeri, di leader del Movimento, insomma ha articolato la sua esperienza politica e sta arrivando a un approdo, oserei dire, quasi riformista, che devo dire è un fatto comunque positivo, considerando che come Partito Democratico vogliamo andare anche verso una prospettiva di alleanza con il Movimento 5 Stelle o quella che sarà la nuova creatura di Conte e di Di Maio nei fatti. Senta, però il Movimento 5 Stelle non l'ha presa molto bene questa iniziativa, nel senso che c'è stato il Presidente della Commissione Giustizia della Camera che ha parlato di strumento di distrazione di massa, allora dal Movimento che propone il referendum propositivo lei se l'aspettava? No, ma infatti perché vince la tattica sul contenuto, ma devo dire che è un difetto della politica italiana o è anche un pregio, perché ripeto i vecchi politici sono sopravvissuti proprio sulla tattica più che sulla strategia. Io spererei soprattutto dal mio partito che la tattica fosse meno importante della strategia, questo è il tema. Noi su alcuni contenuti dobbiamo essere netti, a prescindere da chi li sposa sostanzialmente, perché noi abbiamo una storia, ripeto, in certi momenti che è anche diventata una storia buia per noi, perché c'è stata una presenza di uno spirito giustizialista anche all'interno del Partito Democratico che non è finito. Io non dimentico che il traffico di influenza non l'ha inventato Buonafede, l'ha inventato nella scorsa legislatura diciamo una legislazione antimafia abbastanza discutibile. Io ero in quella commissione ma ho cercato più volte di prendere le distanze, ma non è stato facile, tant'è che poi in questa legislatura ho deciso di non starci proprio, soprattutto quando ho visto che il presidente della commissione antimafia era un personaggio come Morra. Qui però anche nel Partito Democratico questi rigurgiti giustizialisti sono un tema che bisogna superare e in questo ha fatto bene Bettina a porre la questione. Un'ultima domanda. Qualche anno fa era stato Berlusconi a sostenere il referendum sulla giustizia, oggi lo fa Salvini. Allora ritiene che questa sia la conferma che in qualche modo i leader del centro-destra scelgono questa strada perché sono quelli forse più attaccati in qualche modo ingiustificatamente dalla magistratura? Ma non credo, non credo questo, non so Berlusconi, credo che tutto sommato spesso nel, ripeto, come sinistra noi avremmo nel nostro DNA di più proprio con la nascita anche la formazione della Costituzione italiana di più l'idea di come deve essere organizzato uno Stato di diritto. In alcune aree del centro-destra ci può essere un maggiore liberismo, liberalismo che comunque poi porta su alcune questioni ad avere una posizione più aperta. Ma ripeto, io penso che siamo in un momento, poi quando si dice finiscono le odologie, la destra e la sinistra, premesso che non finiscono perché soprattutto sul tema dell'inclusione sociale io credo che anche qui la sinistra ha una storia che non potrà mai essere messa in discussione, però su alcune questioni legate sostanzialmente ai diritti civili credo che questa sia sostanzialmente un tema su cui si può ritrovare insieme, sia la parte liberale che la parte diciamo della sinistra. Va bene, io intanto la ringrazio molto per averci un po' spiegato più compiutamente la sua posizione, ringrazio anche a Bruno Bossio del Partito Democratico con la quale abbiamo parlato di referendum sulla giustizia che sono stati proposti dalla Lega e dal Partito Radicale. Grazie. Grazie a voi.